Benvenuti alla prima giornata del modulo del laboratorio Reactivicity Reloaded tenuto a Bari. Come King City è un modulo a cura di Pop-Up e Company, che sono due delle realtà che hanno scritto questo laboratorio. È un percorso fatto di seminari, azioni urbane e workshop in cinque città diverse della Puglia. È partito ad Altamura nella scorsa settimana. In questi giorni, fino a sabato, si terrà a Bari e poi proseguirà con le altre città, Molfetta, Gravina e Foggia, per ritornare ad Altamura. Questo modulo, come King City, è soprattutto dedicato ai temi della coprogettazione, della governance territoriale e del riuso degli spazi dismessi urbani in chiave di progettazione partecipata. In questi quattro giorni, quindi da oggi fino a sabato 18, si alterneranno delle parti diverse. Quest'oggi, in CoThink, parleremo, discuteremo di tutto ciò che riguarda il tema dei beni comuni. Quindi, prima di tutto, che cosa sono, che cosa noi identifichiamo come beni comuni per andare sulle regole, sugli strumenti di regolazione che servono per istituire queste strategie di collaborazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Soprattutto, che ha per oggetto il riuso di spazi pubblici, ma anche privati, che sono al momento abbandonati o che sono trascurati e che invece potrebbero essere riportati in vita in chiave collaborativa. Nei prossimi giorni ci saranno delle parti più laboratoriali che avranno come oggetto dei casi studio individuati a Bari, tre spazi comunali o comunque pubblici. Gli ospiti di quest'oggi, i nostri docenti, sono Cristian Giaione, che è il direttore scientifico di LabSus, il laboratorio per la sussidiarietà, che ci parlerà più dell'aspetto legato alle norme e agli strumenti, ma anche a un linguaggio che sta poi dietro a questa terminologia di beni comuni, e Werther Albertazzi, il presidente di Planimetrie Culturali, che è una realtà che è attiva già da diversi anni a Bologna e si è occupata proprio non solo di prendere in mano dei casi, di edifici pubblici da riportare in vita, ma anche che ha proposto anche delle formule normative, come una proposta di legge regionale, legate proprio alla bonifica culturale di questi spazi, in un periodo progettuale molto interessante, che è quello che va dalla dismissione di questi spazi alla riqualificazione e quindi alla destinazione definitiva. C'è un momento progettuale, che è quel limbo che intercorre tra questi due momenti molto definiti, che invece potrebbe essere magari la chiave di volta per un'impostazione progettuale di tipo collaborativo. Adesso lascio la parola a Cristian Iaione, grazie. Grazie, io penso di non avere bisogno di questo, magari lo lascio a te, e provo subito a partire, anche se... Allora... Vabbè, si vede o non si vede, però diciamo che questo basta per cominciare. Allora, come diceva Silvia, sono direttore scientifico di LabSus, il laboratorio per la sussidiarietà, che è, per quelli che non lo conoscono, un luogo di riflessione e di comunicazione di un principio costituzionale, che è il principio di sussidiarietà, nella sua versione orizzontale o circolare, a seconda dello studioso che se ne occupa, perché alcuni lo definiscono il principio di sussidiarietà orizzontale e altri di sussidiarietà circolare, e cioè la clausola, andando poi al sodo, contenuta nel 118, nell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui i poteri pubblici, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. È stato definito orizzontale o circolare perché, per distinzione rispetto al principio di sussidiarietà verticale, che è contenuto nei commi precedenti rispetto all'ultimo comma, del 118, dove la sussidiarietà verticale è lo spostamento, il favor, verso l'attribuzione delle funzioni amministrative, delle funzioni di cura degli interessi pubblici, ai livelli di governo più vicini al cittadino. La sussidiarietà orizzontale o circolare che cosa fa? Sposta addirittura sul cittadino il diritto, la libertà solidale e responsabile di prendersi cura dell'interesse generale e lo definisce come interesse generale, non parla più di interesse pubblico. Quindi questo aspetto tornerà nella mia esposizione, però intanto vorrei che lo fermaste nella vostra memoria. Perché in realtà se uno scompone la clausola costituzionale si accorge che i termini di riferimento sono sostanzialmente tre, e cioè il favoriscono da parte dei pubblici poteri, l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, lo svolgimento di attività di interesse generale. I tre poli, se vogliamo, del principio di sussidiarietà orizzontale e circolare sono questi. Allora, che cos'è la sussidiarietà orizzontale o circolare? È la rottura del monopolio pubblico della cura dell'interesse generale. Fino al novecento, fino ai nostri giorni sostanzialmente, prima che il principio di sussidiarietà fosse introdotto in Costituzione nel 2001, lo Stato si fondava su un paradigma bipolare. E continua a fondarsi su questo paradigma bipolare, diciamo nel senso più ampio del termine, cioè ad oggi le amministrazioni e le istituzioni funzionano vivendo il rapporto con i cittadini in termini bipolari. Che cosa vuol dire? Che lo Stato considera i cittadini come dei soggetti passivi, dei soggetti che devono ricevere, dei soggetti che devono essere controllati, dei soggetti che devono essere comandati. Vedete, lo Stato nasce più o meno, lo Stato moderno, quello che ereditiamo, nasce più o meno nell'ottocento e nasce con l'obiettivo di essere uno Stato controllore, uno Stato di polizia, uno Stato che fa in modo che le libertà individuali vengano esercitate e vengono esercitate senza che nessuno prevarichi sull'altro. E' una fase nella quale queste libertà individuali chiaramente non sono riconosciute a tutti nell'ottocento. Però è questa l'idea di Stato che si ha in mente quando si infrastruttura l'apparato pubblico, l'apparato napoleonico che noi ci ereditiamo. Nel Novecento che cosa succede? A questo si aggiunge uno Stato che eroga, lo Stato sociale, ma è sempre uno Stato che continua a considerare chi sta fuori di sé, dello Stato, un paziente, se si tratta di ospedali, uno scolaro, uno studente, cioè soggetti che devono ricevere delle prestazioni, dei soggetti passivi. Lo Stato sociale aggiunge certamente questo intervento positivo, non più un L'SFR, un intervento negativo, un non faccio, non interferisco nelle scelte individuali, aggiunge un atteggiamento positivo. Io cerco di eliminare, come Stato, le diseguaglianze di fatto, erogando prestazioni. E dall'altra parte io ho degli utenti però, ho delle persone che devono utilizzare qualcosa che io Stato produco. Allora, il principio di sussidiarietà che fa alla fine del Novecento, e poi quindi quando viene, perché viene introdotto prima in alcune norme di rango legislativo nel 97 e poi viene costituzionalizzato nel 2001, registra nel nostro Paese, e forse da questo punto di vista noi dovremmo esserne anche orgogliosi, perché siamo un po' più avanti nella riflessione giuridica di tanti altri ordinamenti, registra quello che è un cambiamento di paradigma sociale che sta avvenendo, che comincia ad avvenire a partire dagli anni 90, anche grazie alle nuove tecnologie, ma che è un paradigma sociale che determina un'innovazione economica e quindi che necessita di un'innovazione istituzionale e giuridica. Dico spesso, la società corre, l'economia insegue, il diritto e le istituzioni vanno ricostruite insieme. Proprio perché, che cosa fa il principio di sussidiarietà? Registra questa capacità della comunità, dei cittadini, di quelli che oggi chiamiamo, secondo me dovremmo chiamare innovatori sociali e dovremmo fare in modo che questa nozione entri dentro le norme, dentro la legislazione. Questi innovatori sociali cosa fanno? Si propongono alle istituzioni, alle imprese, alla società civile organizzata, al terzo settore, alle università, alle scuole, come dei portatori di capacità, di risorse, di idee, di tempo, che è una risorsa preziosissima, di innovazione, di talento, che mettono a disposizione di questi soggetti tradizionali, per fare che cosa? Per lavorare insieme, per collaborare e condividere così una responsabilità, che è la responsabilità di curare l'interesse generale, come dice l'articolo 118. Allora, il 118 ultimo gomma non fa altro che riconoscere l'emersione e quindi dare patrocinio, se volete, costituzionale, all'autonomia civica degli innovatori sociali. Devo stare proprio in moto. E questo o è quello? Allora, l'autonomia civica significa che gli innovatori sociali, i cittadini attivi, sono portatori di una capacità di azione nell'arena pubblica, di una capacità di agire per l'interesse generale, una capacità di agire che nel Novecento e nell'Ottocento era riconosciuta solo ed esclusivamente ai poteri pubblici. Cioè, tutto lo Stato moderno si fonda sull'idea che la cura dell'interesse pubblico è monopolio delle amministrazioni pubbliche come soggetti. Quindi quello che emerge è un soggetto pubblico nuovo. In che senso? Che la comunità degli innovatori sociali diventa una sorta di Stato comunità, uno Stato collettività, che deve diventare un partner strategico fondamentale dello Stato apparato. Non può essere più la cura dell'interesse pubblico affidata solo ed esclusivamente all'amministrazione o ai poteri pubblici tradizionali. Ci devono essere degli ambiti di interesse pubblico, ma forse anche di interessi privati, che devono essere trattati come se fossero interesse generale e quindi devono essere co-gestiti, co-amministrati da lo Stato apparato e lo Stato comunità e lo Stato collettività, che è fatto di questi innovatori sociali, di questi cittadini attivi, che a questo punto si siedono ad un tavolo di coprogettazione, di lavoro condiviso, non partecipano più, non è più partecipazione. Partecipare significa io prendo parte a qualcosa di qualcun altro. No, è un tavolo di coprogettazione, è la condivisione di una responsabilità, è amministrazione condivisa. Forse è amministrare condiviso, per indicare l'attività dinamica. Guardate che questo è, come dire, è un cambio culturale, uno shift culturale, non semplice da fare. Per chi sta dentro le istituzioni è, come dire, l'odissea dello spazio, no? Come è un film di Kubrick, perché per loro pensare che di abbandonare la logica dello sportello, di qua il pubblico, di là l'utente, e sedersi ad un tavolo di coprogettazione, significa ripensare se stessi, significa fare sfidare la cultura con la quale loro sono stati formati per essere dietro lo sportello. Significa, per dire una cosa banalissima, che forse non c'è più bisogno di un orario di servizio, che forse non si deve più ragionare in un'ottica di erogare un certo numero di ore a favore della comunità, ma forse si deve ragionare nell'ottica di garantire un certo, si dice, outcome, cioè un certo raggiungimento di un certo risultato. Non serve più l'output, cioè il numero di ore, serve capire e quindi mettere in campo tutte le risorse necessarie come si fa ad arrivare da A a B insieme. Quindi non è più stendere un atto amministrativo che ha una serie di premesse normative che a volte risalgono al 1800 perché abbiamo una stratificazione normativa che ormai appunto ci sta in qualche modo strozzando, ma si tratta di essere gestori di comunità, facilitatori di comunità, manager, organizzatori delle risorse che sono in campo, imprenditori delle risorse civiche che sono nella comunità. Capite che, diciamo, questo sfida la pigrizia, il costume mentale abituale, le abitudini amministrative, ma chiaramente questo è un challenge, è una sfida anche per la comunità, perché noi, e io penso di essere parte della comunità, noi siamo stati abituati a ricevere. E c'è stato, diciamo, se uno ieri con Silvia, Silvia mi raccontava questo episodio, questa conversazione con delle persone di generazioni appunto un po' più grandi della nostra, che, insomma, le generazioni precedenti sono state abituate a ricevere, a essere passive, perché c'era qualcuno che dall'alto distribuiva risorse, ok? E quindi era facile, io sto nel mio, cerco di fare, no, quello che posso, spero di ottenere un pezzo della torta, magari di ottenere qualcosa dal pubblico, c'era qualcuno che magari ragionava nell'ottica imprenditoriale e metteva in piedi anche qualcosa a prescindere dallo Stato, ma in realtà era conveniente a chi doveva distribuire queste risorse e gestire la comunità e tenere la comunità in questa situazione di passività. È meglio controllare una comunità che non sviluppare una comunità, che non svegliarla e sviluppare la sua capacità e quindi capacitarla, perché una comunità capace, una comunità sviluppata, mette una bella, una bella pressione sul decisore pubblico, da questo punto di vista quello che è stato fatto in Puglia secondo me va in quella direzione, cioè di svegliare, di capacitare la comunità, ma pensate a quanti territori addormentati ci sono in giro per l'Italia, a quanti territori nei quali le oligarchie locali, territoriali, negoziano tra loro anche in luoghi che non sono nemmeno istituzionali le decisioni che sono fondamentali oggi sentivo venendo qui mentre si parlava di Genova e di come la città è governata, di questo club dello scopone in cui si ritrovano il vescovo, il presidente della fondazione della banca locale, il sindaco, insomma e così via, le figure, ecco, allora è un tavolo di coprogettazione quello, anche quello è un tavolo di coprogettazione, però è un tavolo di coprogettazione opaco, di cui non sappiamo nulla, allora usciamo dai tavoli dello scopone e entriamo nei tavoli di coprogettazione di comunità, facciamo in modo di veramente applicare la full transparency nell'ottica del governo aperto e cominciamo ad aprire a costruire delle istituzioni, delle istituzioni, dei processi, dei processi non più partecipati ma co-gestiti, dei processi di governance li chiamo io, cioè nei processi in cui tutto è pubblico, tutti i soggetti della governance sono in qualche modo presenti, mettono le proprie risorse, lavorano insieme su un piede di parità, perché qui appunto non si tratta più, pensateci un attimo, non si tratta più di distribuire risorse, non si tratta più di distribuire risorse, si tratta di cercare risorse, sta diventando sempre di più comune il privato che dà risorse, l'imprenditore che magari dona qualcosa che non quello che prende, cioè questa figura del mecenate che sta ritornando, pensateci, allora l'amministrazione, le istituzioni stanno diventando e dovrebbero diventare sempre di più delle piattaforme di fundraising e di crowdsourcing, cioè mobilitare risorse economiche e mobilitare risorse civiche, davvero dovrebbero diventare la logistica, la struttura logistica che consente agli innovatori sociali, alle imprese attive, non a tutte le imprese perché non tutti questi soggetti dentro queste grandi categorie che sono appunto le istituzioni, le imprese, la società civile organizzata, il mondo del terzo settore, le parti sociali, la scuola, l'università, chi dentro questi contenitori, dentro queste categorie decide di essere innovatore pubblico, innovatore istituzionale e decide di lavorare insieme con gli innovatori sociali, i cittadini attivi, deve per forza di cose stringere delle alleanze virtuose e aprire dei tavoli di coprogettazione nella città, nei territori, perché altrimenti si continuerà a fare come si dice in inglese business as usual, cioè l'amministrazione amministra, il privato pensa ai fatti suoi, i cittadini subiscono oppure aspettano qualcosa, la società civile organizzata è una gamba sostitutiva dello Stato ad un costo più basso della fornitura pubblica o della fornitura privata, le scuole e le università sono dei contenitori autoreferenziali che non comunicano con la comunità, con quello che c'è intorno, che non si mettono in rete. Anche le scuole, le università dovranno cambiare nel futuro, probabilmente non saranno più quei contenitori autoreferenziali, baronali, di categoria come sono in alcuni casi le scuole che chiaramente difendono interessi di a volte consolidati, mentre ci sono tanti innovatori dentro le scuole, tanti professori io ho incontrato, tra poi vi farò vedere anche un video di un progetto che ho fatto in alcuni licei romani, dentro queste comunità, dentro queste cinque comunità, ci sono degli innovatori, è come se noi dovessimo fare una grande, costruire una grande alleanza degli innovatori pubblici o degli innovatori istituzionali, prendendo le persone che sono più avanti del resto della loro diciamo categoria e facendo in modo che lavorino insieme e diventino una sorta di forza motrice non classe dirigente perché non c'è più nulla da dirigere, non c'è nulla da trascinare, c'è da spingere qui, ragazzi, il motore è fermo, qui dobbiamo scendere dalla macchina, andare dietro e spingere e sperare che si riaccenda il motore, sperando che il motore nel frattempo l'abbiamo riprogettato perché questo è il punto, quello che stiamo cercando di fare e tra un po' comincio a raccontare le cose, i propri dispositivi istituzionali sui quali stiamo lavorando, è riprogettare il motore, riprogettare il motore dello sviluppo locale, riprogettare il motore della gestione dell'interesse generale, tutte queste energie che sono nella comunità, latenti nella comunità e nei diversi ambiti economico, sociale, istituzionale, politico, sono energie diffuse, sono come le energie rinnovabili, prima che fosse inventata la paleolica o il pannello solare, non sono utilizzate e non sono utilizzabili perché se non si mettono insieme e se non troviamo un sistema, un meccanismo, non congegniamo un dispositivo istituzionale che consente di prendere queste energie e trasferirle nei canali istituzionali e tradurle in risposte concrete, e quindi generare progresso, probabilmente rimarranno come era il sole, il vento prima dell'ideazione delle paleoliche e dei pannelli solari. Allora, è fondamentale però per fare questa attività di coprogettazione della governance, di coprogettazione di design istituzionale innovativo, di design istituzionale pubblico, lavorare insieme e lavorare avendo presente una cosa che dobbiamo sperimentare, che nessuno, nessuno ha la soluzione al 15 di ottobre 2014. possiamo continuare diciamo e ci sono tanti esperimenti in giro e questo è un esperimento per me, questo è un esperimento istituzionale, il fatto che spazi come gli Impact Hub, i Talent Gardens, gli spazi di co-working in generale, i Living Labs, i Mind Labs, gli Innovation Labs, io sto facendo un censimento di tutti i labs e gli hubs possibili e immaginabili, ma che cosa ci dicono questi esperimenti, così come quello di cui parlerò tra un attimo dal punto di vista delle regole e delle istituzioni, ci dicono che la comunità degli innovatori sociali sta cercando delle forme espressive, sta cercando delle forme di collaborazione, sta cercando di sperimentare un modo di lavorare insieme. Io penso che siamo come nel momento che ha preceduto la nascita dello Stato moderno, quei 40 anni in cui a cavallo insomma più o meno ai primi dell'Ottocento si sono sviluppate le società di mutuo soccorso, le cooperative, cioè prima che esistesse lo Stato i partiti, i sindacati, non esistevano, dove sono nati queste strutture istituzionali e sociali? Sono nate dentro degli spazi di co-working, sono nate dentro degli spazi di co-working, cioè quando non esisteva assistenza sanitaria, quando non esisteva rappresentanza sindacale, i lavoratori, le persone si trovavano in questi spazi che appunto erano le società di mutuo soccorso, le case del popolo, così via, le cooperative, la prima cooperativa di Pinerolo, in questi spazi si mettevano insieme per proteggersi, per dare una risposta, quando non c'era assistenza sanitaria e nessuno poteva garantire il servizio, non è che aspettavano, chi non poteva si metteva insieme con gli altri in alcuni territori e cercava di dare una risposta di comunità a questa esigenza, è lì che è nato lo Stato moderno, è lì che sono nate le strutture dello Stato sociale, è lì che sono nati i partiti politici e i sindacati, perché quella massa di innovatori sociali si è ritrovata in dei luoghi, ha condiviso problemi, idee, ha cominciato ad acquisire consapevolezza di essere anche una classe sociale, vedete che i makers, quelli che chiamo io gli sharers, quelli che fanno mobilità condivisa, quelli che si preoccupano della raccolta differenziata, quelli che fanno incubazione di impresa appunto collaborativa, e posso continuare, i cittadini attivi semplici, e quelli che Renzo Piano chiama gli architetti condotti, io li chiamo gli urban regenerators, quelli che fanno rigenerazione, come Silvia e i suoi amici, che fanno rigenerazione urbana, questi qui stanno tutti applicando la stessa metodologia, la collaborazione, e in questi spazi si ritrovano e non fanno altro che utilizzare questo metodo di lavoro. Allora si tratta veramente di far emergere questa consapevolezza che come classe addirittura sociale, come attore sociale, si ha uno stesso linguaggio, si hanno le stesse tecniche, si produce su ambiti diversi, vivere insieme, fare insieme, crescere insieme, io l'ho sintetizzata così, in una cosa che tra un po' vi racconterò, vivere insieme, gestione collaborativa di comunità, produzione di servizi collaborativi di comunità, anziché aspettare la produzione, coprodurre del servizio pubblico locale, dalla produzione di energia, alla raccolta differenziata, alla manutenzione del quartiere, all'assistenza sociale, passare dalla separazione, dal dualismo alla coproduzione, è stato detto di recente, fare insieme il making condiviso, tutti, alla fine, tutti questi artigiani digitali che stanno facendo cose insieme, ma il punto non è la stampante 3D, il punto è la metodologia, che è la stessa metodologia degli architetti che vanno in giro per le città a cercare di rigenerare, di fare insieme la città, di rifare insieme le città che sono abbandonate a se stesse in alcune aree, e poi il crescere insieme, nel senso di crescita economica, di coprodurre, di produrre anche imprese collaborative, imprese collaborative, imprese cooperative di comunità, cioè non più ognuno si fa la sua start up, ma magari ci ritroviamo negli spazi non solo per condividere lo spazio, ma per lavorare anche insieme, integrare, fare economie di scopo, realizzare sinergie, perché è inutile che facciamo dieci piattaforme, magari ne serve una fatta bene, che raggiunge lo standard che diventa lo stato dell'arte a livello mondiale, e alla fine anziché avere uno Steve Jobs, abbiamo tanti innovatori sociali che hanno lavorato ad un'impresa di comunità, perché di Steve Jobs ne è nato uno, e ne nasceranno tanti altri singolarmente presi, c'è questo libro che sto leggendo in questo periodo sulla creatività, che è proprio scritto da uno che ha fatto una cosa insieme a Steve Jobs, che è il presidente di Pixar. Allora lui dice che alla fine quando tutti quanti vanno a vedere, a visitare la sede di Pixar, vengono tutti colpiti dal lusso e dallo sfarzo che comunica questo edificio. In realtà quello spazio è stato disegnato dallo stesso Steve Jobs con l'ottica di far collaborare le persone, perché quello che dice Ed Catmull, che è la persona di cui sto parlando, il libro si chiama Verso la creatività e oltre oppure Creativity Inc in inglese, dice in realtà tu puoi dare una idea brillante ad un team mediocre e te la sprecheranno oppure puoi dare un'idea mediocre ad un team brillante che sa lavorare insieme e o te la aggiusteranno oppure te la distruggeranno e verranno fuori con un'idea ancora più figa. Allora qual è il punto che la creatività è il frutto di un'azione collaborativa? La forza del gruppo dice Soglie cioè la cifra del ventunesimo secolo sarà la capacità delle persone di collaborare la capacità di trovare spazi come questo in cui però secondo me si passi dalla condivisione alla collaborazione perché tu puoi condividere una risorsa ma non necessariamente collaborare tu puoi condividere una responsabilità non necessariamente lavorare insieme per raggiungere lo scopo guardate che il passaggio è fondamentale se uno ragiona anche sull'etimologia delle parole condividere dividere con altri qualcosa lavorare cum labor lavorare con qualcuno allora il punto non è soltanto condividere le risorse condividere le responsabilità il punto è lavorare insieme ecco perché il regolamento di Bologna sulla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani è un regolamento sulla collaborazione quando mi sono trovato a dover definire sta cosa che stiamo facendo stavamo applicando l'amministrazione condivisa sì ma non poteva essere un regolamento sulla condivisione dei beni non poteva essere un regolamento sulla condivisione dell'amministrazione doveva essere un regolamento sul dialogo e sulle tecniche di collaborazione fra l'interno e l'esterno della pubblica amministrazione locale per fare che cosa raggiungere uno scopo comune che è quello di curare e rigenerare i beni comuni urbani allora tutto il linguaggio la semantica il lessico del regolamento di Bologna sulla collaborazione con tutti i suoi limiti perché il primo esempio il primo esperimento di questo genere e io sono la persona più felice quando arrivano delle critiche perché io sto lì che prendo nota e spero e sto imparando tanto quando raccolgo quando raccolgo delle obiezioni delle critiche ed è stato detto quando è stato lanciato il regolamento che questo era una sperimentazione cioè l'articolo 30 del regolamento dice che è una sperimentazione che entro un anno il regolamento si autodistrugge come Mission Impossible cioè perché l'idea è quella di valutare quello che si è fatto quello che è successo cosa che non si fa mai in questo paese valutare gli impatti che sono stati prodotti capire dove sono stati commessi degli errori e rifarlo nuovo nuovo rifarlo magari diversamente riscriverlo capire ciò che non ha funzionato e ciò che ha funzionato valorizzare ciò che ha funzionato trovare delle soluzioni per ciò che non ha funzionato se uno cominciasse a valutare le politiche pubbliche in Italia i soldi come vengono spesi forse sarebbe l'inizio di una rigenerazione della pubblica amministrazione perché scopriremo che certe politiche pubbliche non necessitano e non devono essere più sostenute come quella per esempio di incentivi alle imprese dove non si fa una valutazione di quanto è il tasso di mortalità delle start up che vengono finanziate non si fa non si misurano soprattutto gli impatti che non sono economici sociali ambientali culturali perché non tutto è PIL e non tutto viene tracciato dal PIL c'è il benessere eco e sostenibile c'è la felicità interna lorda cioè ci sono indicatori nuovi diversi che vanno a catturare impatti che non sono più solo l'impatto economico ma che hanno una dimensione economica perché hanno un effetto diciamo come dire di riflesso io quando stavo io ho avuto per un periodo appunto la possibilità di lavorare in un centro di ricerca in America e una delle cose sulle quali abbiamo lavorato era misurare gli impatti dei giardini di comunità dei giardini condivisi degli orti condivisi perché uno può pensare che alla fine e siamo partiti appunto da una cosa nel fondo diciamo minimal di prossimità una delle cose che si è diciamo si è tracciata è la riduzione nel raggio di 3 miglia di 3 4 chilometri e mezzo la riduzione del tasso di criminalità l'aumento del valore immobiliare dei beni l'incremento del capitale culturale sociale cioè tutta una serie di impatti che dimostrano come la condivisione la collaborazione può essere un generatore di valore aggiunto allora quindi questa cosa serve moltissimo per spiegare a chi sta diciamo e deve decidere e soprattutto deve investire sull'innovazione pubblica all'innovazione istituzionale che questa cosa conviene questa è una cosa importante da comunicare non è una questione di volontariato non è solo volontariato non è mero volontariato non è altruismo questa è è una nuova forma di affrontare le sfide che la complessità del ventunesimo secolo pone a tutti non più solo al decisore pubblico ci può essere la strada tradizionale quella di ognuno sta nel suo e si fa diciamo e mette diciamo e svolge la sua competenza il suo compitino nel chiuso del proprio recinto oppure c'è un'altra strada lo si fa insieme e lo si fa con tecniche innovative sperimentali portando un approccio un metodo non calando dall'alto delle soluzioni quindi questo era il punto da cui ero partito e qui voglio ritornare cioè i laboratori di coprogettazione di quella che chiamo la governance collaborativa del territorio per fare sviluppo locale di comunità sono dei dovrebbero essere dei luoghi dove c'è un approccio si condivide un metodo ma non delle soluzioni non devono essere necessariamente le soluzioni quelle che sono state adottate a Bologna a Milano Mantova anche perché ripeto in questa fase noi non sappiamo quale sarà lo standard che alla fine aiuterà a costruire questo terzo pilastro questa terza dimensione istituzionale questo stato di collaborazione stato regia stato comunità non so adesso non voglio fare come quegli studiosi che coniano un termine e ci si affezionano sono felice se si impone una formula che sia coprogettata però il punto è questo cioè lavorare alla costruzione di una terza dimensione istituzionale una terza dimensione istituzionale una terza generazione di istituzioni che si affianca chiaramente non sostituisce lo stato di potere quello che esercita il potere che comanda che obbliga che vigila alla seconda dimensione lo stato sociale che eroga che elargisce prestazioni uno stato di collaborazione uno stato che fa comunità che si fa imprenditore di civismo che si fa imprenditore di innovazione sociale e per fare questo proprio perché il punto fondamentale è il cambio il passaggio di cultura per cercare di intercettare e mettere tutte queste energie che vedete sulla mappa dell'Italia dei beni comuni questi sono tutti esperimenti sono tutte esperienze casi di innovatori sociali più che cittadini attivi che si sono messi rimboccati le maniche e si sono messi a prendersi cura dei beni comuni sono energie che in questo momento ripeto sono sparse per l'Italia e dentro le città non è sicuramente sicuramente serve uno strumento regolatorio che riconosca il loro ruolo che faciliti il loro dialogo con l'amministrazione quindi io che insomma ho avuto un ruolo nella definizione nella stesura del regolamento nella gestione del progetto la città come bene comune a Bologna sicuramente sono interessato e ho piacere che in qualche modo i territori si ispirino spero che non applichino la tecnica del copio e incolla spero che non si generi come si è generato in tante altre situazioni questo effetto questa anche pigrizia che fonda tutto sull'imitazione prendo il regolamento lo approvo mi sono tolto ho coperto anche questo settore metto il punto capo A e vado a capo e no anche nel regolamento secondo me il processo dovrebbe essere più importante nel prodotto cioè un regolamento così dovrebbe far uscire il genius loci la vocazione l'empatia il paradigma identitario della singola città a Bologna noi abbiamo lavorato sui beni comuni urbani quindi sullo spazio pubblico perché arrivando lì con un approccio ripeto e non con una soluzione abbiamo fatto un carotaggio per capire quali erano gli innovatori sociali per capire quali erano i beni comuni che avevano bisogno di una gestione condivisa e quindi è venuto fuori lo spazio pubblico strade piazze e spazio verde e i beni abbandonati i beni comuni abbandonati che probabilmente è diciamo una costante però in altri casi in altri contesti potrebbe essere che magari il bene comune sul quale lavorare sono beni immateriali magari magari la legalità magari è l'innovazione digitale magari è un welfare nuovo diverso allora a Mantua per esempio stiamo lavorando sulla cultura cioè il processo è più importante del prodotto quello che ha portato al regolamento è l'apertura esattamente di tre laboratori urbani insieme con l'amministrazione che è stato il primo laboratorio paradossalmente perché il primo laboratorio quindi sono tre più uno il primo laboratorio l'abbiamo aperto dentro l'amministrazione cercando di aiutare le persone che stanno dentro l'amministrazione che sono chiaramente prese dalla quotidianità che non hanno tempo di studiare di riflettere di diciamo di anche formarsi perché ormai risorse per la formazione dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione anche solo per andare a dei convegni non ce ne sono più quindi è come se noi avessimo dentro l'amministrazione dei computer no? che sono che non vengono aggiornati quindi io dico sempre il primo bene comune è l'amministrazione noi ci dobbiamo prendere cura dell'amministrazione non dobbiamo porci nei confronti dell'amministrazione con un atteggiamento di opposizione di lamentela perché è chiaro che ragiona con determinate dinamiche ma perché? perché è stata costruita e disegnata in quel modo e non è stata data l'opportunità non ha le risorse per ripensare se stessa per fare innovazione di se stessa quindi noi ci dobbiamo porre come degli alleati dell'amministrazione di chi dentro l'amministrazione che non è una macchina badate come viene sempre caratterizzata è una comunità dentro l'amministrazione ci sono come ogni non ogni comunità degli innovatori e dei conservatori allora noi dobbiamo cercare di andare come una missione di salvataggio degli innovatori istituzionali che stanno dentro l'amministrazione fargli sapere che non sono da soli che hanno un alleato credibile nella comunità e insieme a loro provare a sperimentare provare a flettere gli strumenti tradizionali oppure forgiarne di nuovi prego grazie grazie per la domanda perché di carriera e politici allora diciamo la politica se meriterebbe un discorso a parte no no però è chiaro che anche dentro la politica ci sono dentro i livelli politici ci sono degli innovatori e cioè questo ciao Nib dentro ecco un innovatore istituzionale stavamo parlando giusto di persone che dentro l'amministrazione come comunità hanno bisogno di alleati dentro no per cercare fuori della comunità dell'amministrazione per cercare di però è chiaro che senza lo posso dire tranquillamente senza una forte leadership politica processi di questo genere non riescono a decollare bisogna essere in grado di trovare gli innovatori pubblici o istituzionali in tutte le categorie e lavorare con quelli dentro la politica dentro le istituzioni dentro il mondo delle imprese dentro il mondo della società civile organizzata non so se ho risposto alla domanda qual era il dubbio in questo caso mi trovo in un momento in cui con un'amministrazione cioè a Barletta non lo specifico ho degli amministratori che potrebbero fare delle cose però ci sono dei dirigenti che mi sembrano un po' ottusi e quindi come muoversi la stessa cosa mi succede in Basilicato io sono Lucano c'ho dei problemi con la regione Basilicata con i politici della gente che sta là in questo momento e non si riescono a fare determinate cose tutto qua allora la risposta è un po' quello che non c'è una soluzione che è valida per tutti i contesti c'è un metodo che è quello di cominciare a partire mettendo assieme le persone che davvero pensano di avere un commitment cioè un impegno serio e solido a fare innovazione pubblica si parte da quelli e poi voglio dire come ti raccontavo del processo di Bologna il processo di Bologna è partito da una non una formazione perché non si tratta di dare forma alla realtà di formattarli quelli che stanno dentro la misa perché quelli hanno ricevuto le persone che hanno ricevuto come dicevo una formazione una cultura perché la struttura è stata disegnata in un certo modo dall'ottocento in poi quindi non puoi ragionare nell'ottica di dargli una formazione devi comunicare comunicare significa mettere in comune una visione del mondo diversa e dire lavoriamo insieme per realizzarla decidiamo di condividere uno scopo modifichiamo il nostro comportamento e orientiamolo verso il raggiungimento di quello scopo comunicare cum munus svolgere insieme un compito non è dare forma io non voglio formare le persone dentro la comunità io voglio trovare dentro l'amministrazione dentro la politica dentro le imprese quelli che vogliono condividere questa visione del mondo e insieme comunicarla e lavorare insieme anche comunicare nel senso di mettere insieme le energie mettere in comunione le energie e questo è il punto quindi se tu a Barletta pensi che l'amministrazione ti segua si tratta di con diciamo i linguaggi adeguati non paventando la nouvelle vague dell'amministrazione o dello Stato come forse ve l'ho raccaratterizzata rappresentata io oggi ma con un linguaggio molto che centra sul si fa piano si fa sperimentale proviamoci e dicendo questa è una direzione che stanno prendendo altri perché questo tema del precedente aiuta sempre chi sta dentro l'amministrazione però si tratta di adeguare il linguaggio e ripeto di condividere un metodo quindi di dire cominciamo ad aprire un tavolo cominciamo a coprogettare a creare un gruppo di coprogettazione in cui magari qualcuno dell'amministrazione è stato fondamentale per me a Bologna avere una spalla solida e forte nel direttore generale del comune che si è ha detto io su questo spendo una leadership a un certo punto davanti ai dirigenti quindi si è impegnato ma è chiaro che se lì la persona che diventa un po' il perno del progetto è un amministratore pubblico quindi un politico anche quello può essere un diciamo un fattore generativo che genera questo processo accende che fa l'innesco è come l'uomo nella caverna che sta cercando di trovare il modo per accendere il fuoco dobbiamo trovare il modo per fare questi processi per innescare questi processi rigenerativi della pubblica amministrazione però io ti assicuro che se per quello che può però se forum PA se investe su questo se adesso fanno una smart city exhibition in cui in 3, 4, 5 panel si parla di collaborazione se tanti territori si stanno predisponendo ad applicare il regolamento ripeto sperando che facciano non un'attività di copia e incolla ma facciano un processo culturale nella città per cercare di declinarlo sulla base dei beni comuni locali e tra un po' arrivo al tema di che cos'è un bene comune secondo me eh allora forse è quello sul quale a Barletta bisognerebbe cercare di provare cioè a investire sull'approccio sul costruire una sorta di centro di coordinamento delle competenze o delle persone che hanno delle competenze che vogliono perdere del tempo a provare e investire sull'innovazione che cos'è bene comune di sicuro non è per me una terza categoria di beni in senso giuridico cioè non si tratta di modificare il codice civile per me è una categoria un concetto che in qualche modo l'articolo 2 del regolamento di Bologna è figlio di questa di questa impostazione è un meta concetto cioè può essere un bene pubblico privato quindi da un punto di vista giuridico gius privatistico mettiamola così rimane pubblico privato ma è un bene che dal punto di vista gius pubblicistico scusatemi le tecnicalità necessita di una gestione condivisa cioè sono beni che la comunità decide anche attraverso procedure partecipative e deliberative che sono in necessità di che sono anzitutto fondamentali per il benessere individuale e collettivo di quella determinata comunità e notate individuale e collettivo cioè è quello che dicevo prima non è altruismo non è volontariato c'è la convergenza fra interesse individuale e interesse generale mi conviene lo devo fare perché mi conviene prendermi cura della città prendermi cura dei beni comuni materiali perché presto o tardi anche io nella mia piccola sfera individuale se un bene comune viene distrutto non viene generato non viene rigenerato io ne riceverò un danno quindi l'idea è quella di definirlo a partire dalla comunità attraverso procedure partecipative e deliberative e devono essere beni funzionali a questo benessere individuale e collettivo per i quali si decide di lavorare insieme di condividere la responsabilità di cura e rigenerazione l'articolo 118 per fare che cosa per garantirne una fruizione collettiva cioè per garantire che quella quell'esercizio di collaborazione determini dei frutti positivi per la comunità non solo per chi come in passato non solo per chi diciamo riceve il bene oppure riceve secondo me non deve ricevere nemmeno il bene deve ricevere la funzione di gestore della collaborazione di host si direbbe in uno spazio così cioè uno dei principi di design del regolamento è che è l'inclusività e l'apertura cioè non si devono riprodurre quelle dinamiche quasi proprietarie che hanno portato all'affidamento di questa o quell'associazione di un determinato bene perché poi si determinano delle forme di privatizzazione magari non è più privatizzazione a favore di un soggetto for profit ma è sempre privatizzazione a favore di un soggetto che in qualche modo utilizza quel bene per se stesso magari come sede magari come luogo per produrre attività che garantiscono la sua sostenibilità invece si tratta di garantire la porta girevole la chiamo io cioè chiunque può entrare chiunque può uscire non ci sono posizioni di rendita e quindi si tratta di creostruire anche delle tecniche di misurazione dell'influenza sulle decisioni sulla gestione che non siano più centrate sulla quota azionaria piuttosto che la tessera associativa perché altrimenti si creano quelle dinamiche per cui si fa raccolta di tessere o raccolta di quote societarie no dovrebbero essere degli strumenti di misurazione dell'impegno di ciascuno a favore del bene comune continuamente monitorate continuamente valutate che consentono un continuo rimescolamento del meccanismo di governance è un avvicennamento diciamo un turnover fondamentale però garantendo una certa continuità ecco che lo vedete che alla fine in questa perché qual è la dinamica tradizionale anche dell'affidamento l'amministrazione affida un bene e si è spogliata della responsabilità e dove sta la condivisione al massimo percepisce una pigione al massimo viene chiamata in causa quando ci sono dei danni e quindi deve erogare una sanzione ma il punto è che un'amministrazione e un'istituzione che decide di cogestire non può andarsene non può ritrarsi deve ristare al tavolo di coprogettazione deve garantire questa continuità casomai si fa affiancare da un manager da un gestore che lo aiuta che l'aiuta a organizzare la logistica a organizzare tutto ciò che serve per favorire una continuità alla collaborazione ma non deve affidare non si parla mai di affidamento nel regolamento non si parla mai di competizione si parla sempre e soltanto di procedure continue attraverso le quali chiunque qualunque nuovo soggetto deve avere l'opportunità di dare nuove energie di immettere nuove energie proprio per evitare le dinamiche autoreferenziali autocentrate quelle che ossificano si dice in linguaggio scolastico ossificano le situazioni le sclerotizzano le calcificano e poi questi meccanismi queste formule di governance invecchiano perché non hanno più la linfa vitale che viene dagli innovatori sociali che chiaramente sono sempre sempre nuovi sempre nuove idee quindi bisogna costruire davvero cioè quando dicevo dei dispositivi istituzionali che consentano a queste energie latenti e diffuse nella comunità di fluire dentro i canali istituzionali continuamente è come inventare il pannello solare o la paleolica c'era una domanda all'infondo Silvia forse fare una una riflessione tu stai introducendo una definizione del campo sociale di azione e anche dei rapporti di forza con la pubblica amministrazione con la politica ma con settori dell'economia perché questo è quando tu estendi quel pulviscolo di esperienze su un piano più ampio in qualche misura pensi anche a un regolamento nazionale mettiamola così o una legge quadro un qualcosa che dia degli ordinamenti a cascata sul livello territoriale se quello è un possibile obiettivo e introduce l'elemento dell'abbattimento della rendita perché poi parliamo anche di questo quando parliamo di città la contrapposizione l'uscita da un un pensiero economico che ha prodotto delle devastazioni nel nostro paese e diventa un fatto inevitabile e si scontra e con la debolezza degli organismi di rappresentanza no? i corpi intermedi e anche però con la debolezza del tessuto identitario dei territori allora io sposo e condivido quello che dice alla fine il farsi di questi progetti può ridare un senso alle comunità rispondere a una voglia di comunità mettiamola così ma arriva a un certo punto in cui viene messa in discussione la tenuta economica quella dettata diciamo dal pensiero classico e dall'azione classica dei nostri cialtroni dell'urbanistica e quello crea una conflittualità sociale che io non sono così convinto possa come dire vedere la partecipazione della porzione politica più che della parte diciamo amministrativa né la benevolenza della porzione politica chiudo tu hai detto delle cose che storano enormemente con quello che sta avvenendo in questi giorni quando tu parli di società di mutuo soccorso erano delle proto-organizzazioni di classe di rappresentanza la mutua dei ferrovieri eccetera nascevano con un obiettivo preciso anche per dare un'identità è il contrario a quello che sta avvenendo è lo smantellamento degli organismi di rappresentanza anche a livello territoriale attraverso cosa la costruzione di una retorica che però dentro ha un elemento che non viene mai messo in discussione la produzione della rendita allora io quello che sto facendo allora all'netto delle disquisizioni teoriche sul paradigma economico che lascerei insomma delle aule un po' un po' più minimalista sono nel senso a me piace partire dal basso mi fa piacere di essere in un laboratorio dal basso partire dal basso e sperimentare e come dicevo prima se io fossi partito con l'idea di fare la rivoluzione probabilmente non sarei nemmeno riuscito a carpire l'attenzione di decisori importanti perché alla fine quello che io provo a fare te lo sintetizzo in questo modo io sto cercando di hackerare le istituzioni sono un virus che cerca di entrare e e cambiare piano piano un po' la visione del mondo e la cultura non li poi non li voglio considerare non li voglio considerare è chiaro che c'è quello è chiaro io voglio salvare vorrei cominciare a lavorare a gettare un ponte con quella parte che magari sana no della classe di quella che appunto gli altri chiamano classe dirigente io lavoro alla creazione di una forza motrice che spinga il cambiamento e non che diriga dall'alto ma che spinga il cambiamento dal basso allora io penso che comunque bisogna trovare degli alleati anche lì se non vogliamo restare nella nicchia ho un approccio un po' più prosaico è vero tutto il tema della rendita io sono stato un avvocato faccio diritto urbanistico mi sono occupato e però guarda caso proprio in questo periodo comincio a ricevere l'interesse di sviluppatori che cominciano a capire che non vanno da nessuna parte con il paradigma tradizionale allora perché non aiutarli a cambiare aiutare anche queste realtà a cambiare perché lasciarli ancora nelle mani di chi quelle rendite le vuole gestire le vuole riprodurre e magari non provare come si è fatto in altri ordinamenti a fare una coalizione dei virtuosi mettiamola così dentro ognuna di questi contenitori dentro i sindacati dentro le paverche poi le dinamiche poi ci sono anche quelle no? perché è chiaro che poi ognuno si è predisposto a tutelare a rappresentare gli interessi di categoria allora davvero il tema è provare a fare delle cose che possano far vedere che c'è una strada diversa da seguire che si può seguire che dà dei frutti positivi e che può essere il frutto di una collaborazione anche tra attori e poi l'altra cosa fondamentale il punto è ripeto come dicevo prima contribuire alla costruzione degli innovatori sociali più che dei cittadini attivi come attore sociale come classe sociale che nel ventunesimo secolo diventa si siede al tavolo di coprogettazione diventa un partner credibile e comincia a vigilare anche perché come è stato possibile che si la costituzione e la creazione di posizioni di rendita è stato possibile perché i cittadini sono stati allontanati sono stati messi nella condizione di passività ti do risorse le distribuisco aspetta che arriveranno e poi però intanto noi gestiamo la comunità gestiamo i problemi della società e quindi prendiamo le decisioni l'allontanamento c'è questo libro di Ian Morris e Asemoglu che si chiama Why Nations Fails Why Nations Fails perché le nazioni falliscono perché è uno degli indici è l'allontanamento la distanza dalla decisione ma dalla co-decisione dei cittadini della comunità perché questo aumenta il rischio morale cioè diminuisce il rischio morale l'azzardo morale quindi io so che i cittadini sono lontani quindi riprendo più rischi ieri sera mi raccontavano no ricordavamo l'esempio del Petruzzelli bruciato ma come può essere possibile che uno che ha una responsabilità pubblica si predispone a fare quella scelta se non perché pensa di essere in fondo impunito e perché lo pensa perché è un sistema che glielo fa pensare perché sa che non ci sarà nessuno che gli chiederà di rendere il conto la lontananza da distanza tra la comunità e i centri decisionali e deriva dal fatto che la comunità è stata tenuta in questa situazione di passività e se la comunità degli innovatori sociali non prende su di sé questa responsabilità di organizzare e sviluppare la comunità stessa mobilitarla dagli degli strumenti tecnici tutti questi esperti di fundraising di di architettura di economia condivisa di design dei servizi di innovazione istituzionale di governance di diritto collaborativo che stanno facendo se non mettere a disposizione questo expertise degli innovatori sociali per fare in modo che anche la comunità si possa presentare come un partner degli altri quattro soggetti istituzionalizzati perché il punto è che l'innovazione sociale è un mare magmatico quindi non ha forma e chiaramente noi dobbiamo ragionare su quali sono le formule organizzative giuste senza troppo irregimentare senza troppo formalizzare perché uno dei principi un altro dei principi di design del regolamento di Bologna è l'informalità uno deve avere sempre di vista che proprio perché è un processo fluido è una dinamica fluida non devi mettere in piedi delle grandi infrastrutture cioè dobbiamo pensare anche a delle nuove formule organizzative a Mantua stiamo pensando a lavorare ad una città come se fosse una co-città questa cosa è venuta anche grazie diciamo a la creatività di chi stava nel laboratorio di coprogettazione abbiamo messo in piedi esattamente come si è fatto a Bologna un laboratorio a Mantua e l'idea era quella di lavorare sullo sviluppo locale partendo dalla cultura da un bene comune e abbiamo capito stando lì cominciando che era la cultura non lo sapevamo che era la cultura prima di andare e chiaramente Mantua città patrimonio unesco un centro storico stupendo una città che è una bella addormentata perché in fondo ha delle potenzialità gigantesche che non sta sfruttando anche lì probabilmente perché la classe dirigente locale negli anni precedenti ha pensato a gestire più il rapporto con il petrolchimico con la cartiera burgo tutte cose che stanno chiuso che stanno chiudendo anziché pensare ad un modello di sviluppo innovativo cercando di estrarre qual era la vocazione del territorio allora abbiamo aperto questo prima di tutto abbiamo fatto un concorso di idee per appunto lanciare come una sonda nello spazio un avviso ai naviganti stiamo cercando gli innovatori sociali nel territorio che facciano innovazione sociale sulla cultura e c'è questa call questo concorso di idee che si chiama la cultura come bene comune che era centrato proprio su tre strand sostanzialmente la rigenerazione e quelli che erano vi ho detto prima un po' la rigenerazione condivisa l'apertura di laboratori di incubazione di appunto fab lab di living lab proprio perché volevamo uscire dalla forma ho detto questi qui sono gli esempi non ve li fate vi diciamo quello a cui facciamo riferimento quindi è anche un modo di costruire il concorso di idee come dire aprendo il codice non vi sto dicendo non vi nascondo quello che sto cercando e poi magari lo dico a chi a chi mi interessa lo dico queste sono le possibilità abbiamo tracciato queste possibilità rigenerazione condivisa incubazione condivisa comunità condivisa servizi collaborativi condivisi abbiamo selezionato da 36 progetti guardate che per una città o un territorio come Mantua sono tantissimi perché Mantua fa 47 mila abitanti penso che nemmeno un quartiere di Bari è più grande insomma è più popolato allora ne abbiamo selezionati preselezionati 11 di questi 11 ne abbiamo premiati 3-5 3 con premi in denaro 2 con delle menzioni e poi abbiamo detto va bene posto che nella call la griglia di valutazione era centrata anche su esattamente la capacità di collaborare con la città per produrre altri beni comuni non solo per lavorare sulla propria idea e sulla capacità di collaborare con altri progetti diamo un'opportunità di entrare dentro un campo di coltivazione delle vostre idee un ideas camp per usare un linguaggio anglosassone che serve soltanto per dare un po' il riferimento culturale ma soltanto per il metodo non perché mi piacciono gli anglicismi però un campo di coltivazione delle idee in che cosa consisteva il consistito che sia appena chiuso il campo di coltivazione da giugno da maggio da maggio a ottobre ai primi di ottobre dare a queste idee degli strumenti scusate degli strumenti delle competenze sofisticate la possibilità di interloquire con degli esperti che sono stati selezionati in virtù del merito di cui io, noi ci siamo fatti i garanti persone che a volte non conoscevo nemmeno però mi sono posto lì nell'ottica di cercare il meglio per dare il meglio alle idee che erano state selezionate abbiamo messo dentro questi laboratori di coprogettazione hanno cominciato a lavorare hanno ricevuto questi strumenti per coltivare le loro idee migliorarle perché è facile fare il bando e dire ah fatemi l'idea per la start up poi il punto è dargli gli strumenti dargli l'accompagnamento il tutoraggio ormai siamo diventati mi sembra di essere tornati agli anni 80 quando Renzo Albore faceva sì la vita è tutto un quiz sì la vita è tutta una start up è tutto un concorso è tutto un bando per idee non basta più fare come dei criceti correre i giovani innovatori sociali dentro delle strutture che servono dei processi delle politiche che servono solo a farli competere bisogna cominciare a pensare delle politiche pubbliche che li fanno collaborare perché ripeto di Steve Jobs quanti ne possono nascere ma di gruppi creativi che collaborano e magari producono cambiamento e lo fanno insieme e muovono il territorio lo spingono verso il cambiamento e secondo me la Puglia è questo come modello cioè ha dimostrato che insieme si cambia da soli si vince ma insieme si cambia cioè la Puglia è percepita all'esterno come una buona prassi a livello internazionale di questa capacità del territorio come territorio di muoversi e di muovere la frontiera più avanti non è percepito come c'è stato un tizio piuttosto che un altro non è Steve Jobs allora li abbiamo messi dentro questo campo di coltivazione gli abbiamo fatto sviluppare le loro idee abbiamo chiesto a loro di creare delle sinergie quindi integrarsi integrare anche verticalmente e orizzontalmente le loro idee per cui chi aveva una piattaforma aiutava chi aveva la necessità di lanciare un servizio di comunità collaborativa beh tra l'altro io la piattaforma è venuta che ti fai il sito tu e poi gli abbiamo fatto sviluppare appunto economie di scopo quindi magari organizzare gli eventi insieme anziché fare i 10-20 facciamo che comuniciamo ed è nata Comantova alla fine di questo percorso è nata Comantova cioè quello che forse sarà un patto di collaborazione territoriale ma che in realtà è un approccio è come se avessimo prototipato un metodo dentro il laboratorio di coprogettazione adesso si è aperto un campo di governance cioè in cui tutti quegli altri quattro soggetti quindi abbiamo lavorato sulla comunità degli innovatori sociali perché si organizzasse e acquisisse una consapevolezza unitaria e poi adesso stiamo facendo in modo che quella comunità di innovatori sociali si sieda al tavolo di coprogettazione con le imprese guardate tutto questo è stato sostenuto dalla Camera di Commercio che è significativo cioè l'organismo pubblico che dovrebbe che deve preoccuparsi dello sviluppo economico del territorio ha deciso di puntare sulla collaborazione sugli innovatori sociali sulla cultura un bene comune e adesso l'idea è quella di fare in modo che ci sia non ci sia più soltanto collaborazione cittadinanza attiva innovazione sociale sparsa ma ci sia governance governance collaborativa cioè provare a fare a costruire questi che non so se parte però dei laboratori di governance collaborativa che nel lungo termine vabbè non si vede bene però questo è il sito sul quale raccontiamo in inglese perché lo raccontiamo in inglese perché l'idea di dare di offrire la risposta italiana nel campo dell'innovazione sociale di dire guardate che noi siamo avanti non siamo sempre lì a copiare modelli che vengono dall'esterno questo è quello che sta avvenendo non parliamo soltanto di cose che facciamo noi c'è un blog che si chiama The Commons Post in cui si raccontano le esperienze che succedono in giro per l'Italia quelle che prima avete visto nella mappa dell'Italia dei beni comuni o comunque esperienze appunto come Pop Hub tutto quello che c'è in termini di innovazione sociale in Italia raccontato in inglese per dire alla comunità internazionale dell'innovazione sociale guardate ci siamo anche noi e che non siamo un diciamo attraino anzi potremmo essere da questo punto di vista molto più avanti di voi quando ho parlato con Michelle Bowens o con Neil Gore di quello che stiamo facendo e di quello che sta avvenendo in Italia la loro prima reazione è esattamente quello che noi non riusciamo a vedere negli altri territori negli altri ordinamenti cioè il rapporto l'attività che c'è di cucitura e tessitura tra l'innovazione sociale e l'innovazione istituzionale Michelle Bowens parla di uno stato partner io preferisco non usare partner perché il partenariato pubblico privato rimanda appunto a quelle formule che hanno determinato la creazione di posizioni di renda perché chiaramente il pubblico non è stato in grado di essere partner del privato perché non c'è nulla di male nelle public private partnerships però se il pubblico è in grado di essere partner in fondo quello che stiamo cercando di fare che sto suggerendo qui oggi è quello di fare una partnership a tre pubblico privato e people popolo cioè tre P dove però il popolo secondo me è una nuova forma di pubblico come dicevo in apertura cioè lo stato comunità lo stato collettività che ragiona e diventa davvero un interlocutore credibile sostenibile in grado di avere anche una una diciamo visione che sia di lungo termine quindi l'idea della governance è esattamente questo Comantova dovrebbe essere un prototipino sperimentale fatto in una città piccola centrata sulla cultura ma secondo me è un esperimento che va il cui approccio il cui DNA che io chiaramente lo faccio da come dire studioso da ricercatore da persona che insegna queste cose nell'università e che però non le vuole insegnare le vuole sperimentare applicare faccio ricerca sul campo insomma in qualche modo diciamo l'idea è quella di provare nelle città metropolitane cominciare con le città metropolitane dove la dimensione dei problemi la complessità dei fattori è più significativa e diciamo la sfida è anche più accattivante perché io non vado a cercare le cose facili vado a cercare le cose difficili perché per dimostrare che questo è un modello per arrivare alla conclusione se questa cosa funziona o no uno non deve ragionare sul centro deve ragionare tra virgolette sulla periferia cioè sui problemi non intesa periferia in senso geografico intesa sulla perequazione sul cercare di lavorare sulle problematiche vere sul risolvere i problemi veri e non risolvere diciamo fare cose dove l'ambiente è favorevole e basta quindi questa cosa secondo me funziona ancora di più perché quella statistica che vi citavo prima dei giardini di comunità che determinano un impatto diciamo nella misurazione un impatto positivo sia economico che sociale era ancora più vera nelle aree di periferia delle città più che nel centro c'era un aumento del 10% del valore immobiliare nelle aree di periferia dove c'erano giardini condivisi rispetto alle aree centrali dove l'aumento era solo del 6% allora quello spread del 4% mi segnala che questa idea della condivisione della collaborazione ha un effetto e un impatto maggiore lì dove i problemi sono ancora più importanti quindi immaginare con le persone che sono qui oggi e con le persone che magari ci saranno in futuro di cominciare a sperimentare una sorta di co-bari cioè una bari condivisa una bari collaborativa che investe in via sperimentale su queste cose su questa tecnologia istituzionale sociale ed economica che poi l'altro tema è grande l'economia collaborativa forse potrebbe essere il senso il senso di diciamo la caduta il punto di caduta di tutto questo io mi fermo qui per il momento se ci sono altre domande o interventi che vogliono integrare distruggere o aggiungere insomma sono a vostra disposizione non voglio rubare altro tempo perché c'è Bertazzi di Planimetrie Culturali che è un'altra diciamo secondo me segnale positivo dell'innovazione che che sanno esprimere le comunità ed è insomma giusto che abbia il tempo di avere la sua esposizione grazie 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 grazie